Siamo qui, amici miei, un po' sfatto, un po' stanco. Come mai? Una giornata di lavoro? Forse una giornata di lavoro? No, peggio, è il post di Parma Inter, amici miei. Il post di Parma Inter perché questa sera ho temuto, ho davvero temuto che potesse succedere un passo falso. Siamo entrati in campo con un po' di mollezza, diciamo così, quindi un primo tempo ho giocato male, male, sotto tono sia Lukaku, Eriksen, un po' tutti, insomma. Poi il secondo tempo ci siamo un po' aggiustati in campo, come al solito qualche occasione fallita, il Parma hanno giocato bene, D'Aversa ha messo la squadra in campo, poi loro psicologicamente non avevano niente da perdere, niente da perdere, quindi abbiamo passato un brutto quarto d'ora proprio alla fine. C'è da dire che dobbiamo ringraziare alla fine a Sanchez che con quel gol, quel gol di centimetri, stasera ecco, abbiamo guadagnato ancora in classifica grazie a 2-3 centimetri, cioè il fatto che la palla abbia marcato alla linea di posta, qui 2-3 centimetri che sono bastati per vincere stasera. Non sono particolarmente soddisfatto della prestazione, però sono soddisfatto del fatto che siamo a più 6 dal Milan, che sarebbe più 7 praticamente con lo scontro diretto. Adesso abbiamo l'Atalanta e là sarà un'altra storia, là ci sarà da giocare molto bene. Vi volevo far salutare anche dalla mascotta interista, che sarebbe questa qua come l'altra volta, vedete che lui ha un sorriso stereotipato, così tanto voglio dire non cambia mai, va bene. Stasera dormirò con questi colori addosso, vedete, noi abbiamo sempre i colori della Azurde, dappertutto in questa casa, e siamo contenti, siamo contenti, felici, strafelici e quella scena, la scena finale, vi devo dire solo questa, la scena finale all'ultimo minuto con Hakimi che ha fatto un recupero vicino alla panchina di Conte che l'ha abbracciato forte e questo è lo spirito di gruppo, ci deve essere, bisogna cementare di più e bisogna non mollare mai, nemmeno di un centimetro, nemmeno di un centimetro. Quindi questo è tutto, grazie, salutate la capolista, ciao a tutti. Ciao.